La situazione economica anche Arezzo la sta vivendo in modo pesante, nel senso che la crisi aziendale, le crisi aziendali cominciano ad esserci tante, comincia ad esserci una disoccupazione anche consistente, i dati ci dicono appunto che sono moltissimi, numero di ore di cassa integrazione, si parla insomma di, adesso non solo il dato preciso, ma insomma molte ore di cassa integrazione, ci sono aziende che stanno chiudendo, c'è tantissimo lavoro nero perché poi naturalmente questa è una formula che si incentiva laddove c'è crisi e questo necessiterebbe che intorno al tema dello sviluppo economico, del sostegno alle aziende ma anche del sostegno all'occupazione ci fosse un'azione congiunta con la regia del comune che potesse mettere insieme tutte quelle che sono le categorie economiche, sindacati, le associazioni varie in modo tale da poter avere in qualche modo un quadro comune e anche diciamo così interventi che devono essere, che riguardano tutti e che dovrebbero essere concertati rispetto al fatto che invece questa amministrazione comunale sul tema appunto anche della crisi economica non fa sentire la propria voce insomma sostanzialmente. È stato richiesto anche ieri più volte di fare un consiglio con all'aperto esattamente sulla questione dell'economia ma però anche ieri c'è stato risposto sostanzialmente picche.